Dice di chiamarsi Ulf e cerca un posto dove nascondersi. Così ha viaggiato per 1800 chilometri su treni e autobus fino ad un paesino sperduto nell'estremo nord della Norvegia. Aveva dei buoni motivi per tradire il pescatore il signore della droga con cui lavorava ad Oslo ma ora ha i suoi sicari alle calcagna. Inutile continuare a scappare a Kasund almeno ha trovato un capanno da caccia una donna quasi bella e un ragazzino che non vedeva l'ora di parlare con un forestiero. Non dovrà attendere a lungo per scoprire se anche per uno come lui è possibile una redenzione oppure se davvero la speranza non è altro che un'invenzione del diavolo. Ai libri di Carletto sole di mezzanotte l'atteso nuovo romanzo di Joe Nesbo edizioni e in Audi con lana stile libero big. Alla prossima settimana con un nuovo libro seguici sulla pagina facebook Carletto e sul canale youtube Carletto Romeo. Buona lettura a tutti!